ciao a tutti io sono conia e oggi prepariamo insieme la crema pasticcera la realizzeremo a mano per l'altro procedimento invece col bimbi vi lascio il link descrizioni gli ingredienti che ci occorrono sono cinque tuorli mezzo litro di latte 150 g di zucchero 40 g di amido 40 g di farina doppio zero e una buccia di limone mescoliamo in una pentola abbastanza capiente le uova con lo zucchero quando il nostro composto è diventato bello scumoso aggiungiamo le farine da parte discardiamo leggermente il latte con una buccia di limone che andremo poi ad aggiungere al nostro composto passiamo tutto su fuoco e giriamo la nostra crema fin quanto non si addensa dopo di che copriamo la pentola con una pellicola e lasciamo raffreddare grazie e alla prossima